Paolo! Alfonso! Ma allora non sei scappato con la velina? No, io ce n'ho solo una, solo una! Ne hai solo una di velina, è Letizia! E che velina, fammelo dire, guarda qua! Che meraviglia! Devi essere orgoglioso della tua donna! Io sbengo quando la guardo! Tra l'altro Letizia, hai visto che cosa ha al petto il nostro Paolo? Allora, prima ho guardato Cesare, ho detto no, neanche stasera la messa! L'ha regalata Cesare a Paolo, vero Cesare? Sì, è il loro porta fortuna, no? È il loro girasole! L'ho comprato la prima volta che li ho visti nascondersi dietro quel mazzo di girasole, ti ricordo? È vero! E tu sei stata, devo dire... E sono stata attenta! Sei stata oltretutto la prima a credere fermamente in questa coppia e l'hai sostenuta sempre! E non mi hanno deluso! Sì, non ti ha mai deluso! E' vero, è vero! Cesare è la fan numero uno! È stato un assist importante per lui! Alfonso, ma quanto l'hai fatto bello! Ma scusa! Hai visto che bello che è? Ma mamma mia! La tagliate l'ha fatto bello con quel... Guarda Letizia, ti posso dire una cosa? È molto corteggiato Paolo fuori dalla casa, ma lui ha occhi solo per te! Veramente, è innamorato, pazzo, tazzo! Eh? Ok? 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 Grazie a tutti